Ora si registrerà la conferenza. Un cordiale saluto a tutti e questa nostra brevissima introduzione è solo per farvi apprezzare il nuovo sito di Nicola Sardegge, in parte per questo motivo, ma soprattutto per rendere noto a tutti che è tutto gratuita, quindi non c'è bisogno di un'area riservata sul nostro sito. Entrando nell'area analisi, oltre all'ora della fatta verde che viene pubblicata quotidianamente, a partire da oggi, abbiamo anche l'introduzione alla semiottica tecnica dei mercati finanziari. Questo sarà un percorso che ci accompagnerà nel corso dei prossimi giorni, delle prossime settimane e ovviamente dei prossimi mesi, portandoci a quello che sarà poi un autentico corso che Nicola Sardegge produrrà e metterà a disposizione di tutti, ovviamente sarà un corso a pagamento, lo dico subito, non potrebbe essere diversamente, il prossimo anno, tuttavia, da qui al prossimo anno, tutto quel che noi pubblicheremo sulla semiottica tecnica dei mercati finanziari sarà totalmente gratuito e a disposizione di chiunque, è molto molto semplice, Allora ve lo ricordo, dalla home page, cliccate sulla voce analisi, arriverete alla pagina di analisi, oltre all'ora della fatta verde che potete scaricare o in video MP4 o per coloro che usano e soprattutto che non hanno la possibilità di vedere il video MP4 è sufficiente scaricare il link dal cloud che vi porterà direttamente a vedere il video. L'introduzione alla semiottica tecnica invece è un PDF, l'ho scaricato da qua, io l'ho già fatto, si apre qui, non è una cosa particolarmente pesante, questo è il numero uno, abbiamo pubblicato l'11 ottobre, qua avete una sola paginetta e poi finisce tutto e grosso modo questo dovrebbe essere un giorno o quotidianamente o al massimo una volta ogni due giorni pubblicheremo una paginetta dedicato a un tema che di fatto quasi nessuno conosce in Italia e che invece rappresenta molto ovviamente il futuro o uno dei tanti futuri possibili, perché se no saremmo contro quello che la stessa semiottica tecnica dice, uno dei tanti futuri possibili che potremmo incontrare nell'analisi dei mercati finanziari. Ritorno un attimo a bomba per far vedere questa news, perché la news è questa, a partire praticamente dal mese di ottobre noi mettiamo a disposizione questa offerta particolare per tutti coloro che vorremmo visionare tutti i nostri report e servizi, quelli a pagamento, con un'offerta decisamente diversa al consueto, praticamente anziché avere un solo cliente ne avremmo due, e praticamente è come se dividessero a metà la spesa per poter avere tutti i nostri report e servizi, che non sono pochi, da qui, dal giorno in cui viene, si fa l'abbonamento, al 30 di giugno del 2022. Sono quasi nove mesi, sono certamente otto mesi e mezzo, ed è un'offerta veramente imperdibile, perché il costo degli stessi evidentemente non è questo, tuttavia abbiamo avuto tutta una serie di problemi nel corso del secondo semestre e quindi abbiamo deciso di fare questa offerta per farci un po' perdonare verso tutti coloro che sono rimasti un po' ai margini della nostra attività negli ultimi tempi, regalando di fatto due mesi e mezzo più un semestre a un costo veramente erisorio, che è quello del 2022. Qua mi fermo e non credo ci saranno ulteriori incursioni, quindi l'appuntamento con il nostro canale YouTube è per il prossimo fine settimana, ancora una volta per Codice Rosso, la newsletter o videoletter dell'Accademia del Grupo.